Che rapporto hai con il tuo corpo? Ma... conflittuale, direi, sì, non sono... Nel senso che non ti piaci tutti i giorni? No, certo che no, no, quello no. Ma noi ragazze siamo tutti, abbiamo tutti un rapporto conflittuale con il nostro corpo, secondo me è per colpa vostra, probabilmente, questo continuo confronto, questa continua ricerca della perfezione è che poi noi adesso i social hanno rovinato tutto, secondo me, ci paragoniamo troppo e questa cosa sicuramente negli anni passati mi ha più pesato, vedevo ragazze bellissime, con fisici perfetti, io non ho un fisico perfetto, per dire, sono fortunata, sono alta, sono magra, ho il seno, quindi non ho grosse criticità, però potessi avere il fisico di Bella Did, forse dico, eh, se posso, meglio. Però ho un rapporto strano con il mio corpo, devo ancora... Sto lavorando, ci lavorerò, accettarmi totalmente, piacermi, non... Però è una cosa secondaria, cioè preferisco lavorare sulla mia mente prima.